La trilogia di Scott McCloud è una lettura obbligatoria, quantomeno capire il fumetto. Capire il fumetto è un pilastro della saggistica a fumetti, se non avete mai letto capire il fumetto siete ignoranti come capre, ma dovreste recuperarlo, per il semplice motivo che Scott McCloud, facendosi aiutare anche da tanti fumettisti, tra cui Neil Gaiman, Neil Gaiman è stato uno di quelli che ha aiutato Scott McCloud nella realizzazione di capire il fumetto, realizza un saggio a fumetti sul mondo del fumetto. Quindi quando voi leggete Capire il fumetto, Scott McCloud cerca di raccontarti prima di tutto che cos'è un fumetto. Lì dentro trovate la definizione per eccellenza di un fumetto. Scott McCloud te la dice. Ti fa una storia quantomeno globale del mondo del fumetto a partire da ciò che noi possiamo definire come proto-fumetto, quindi a partire da quello che è il libro dei morti degli egizi, la colonna traiana, ti racconta varie cose, fino poi a spiegarti come nasce effettivamente il fumetto. E la cosa che ho sempre trovato meravigliosa di questo saggio sui fumetti, ma fatto a fumetto, è che Scott McCloud, oltre a giocare con la grammatica del fumetto, e oltre a raccontarti grammaticalmente parlando che cos'è un fumetto, che cos'è una vignetta, che cos'è quello spazio bianco tra una vignetta e l'altra, quanto conta l'impressione del lettore per sviluppare l'azione all'interno di un fumetto, ti racconta anche tutte quelle che sono le differenze tra i vari tipi di fumetto. Una delle cose più interessanti è proprio vedere come Scott McCloud capisce benissimo quali sono le differenze sostanziali, ad esempio, tra il comic book americano, il fumetto occidentale, il fumetto europeo e il manga. E non ve lo spoiler, se non l'avete letto così vi costringo a leggere e capire il fumetto, ed è uno dei volumi fondamentali, fondamentali. Ancora oggi ci sono molte cose raccontate in Capire il Fumetto che sono e rimangono quelle. Se non l'avete mai letto, recuperatelo. Tra l'altro c'è l'edizione 3 in 1, pubblicata da Baupublishing, leggetelo nel caso fatemi sapere.